Nuovo appuntamento con i giornali in tv ben ritrovati da Pasqualino Lettura come sempre sui canali 94 e 98 del Digitale Terrestre. Ne avevamo parlato anche nell'edizione precedente dei giornali in tv, cioè di questa operazione che c'è stata, di queste vicende che hanno interessato l'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Oggi appunto questa notizia è approfondita sui quotidiani sia su Gazzetta del Sud sia sul quotidiano del Sud. In pratica sono sospetti su appalti in Tromenia all'ospedale Ciaccio di Catanzaro. In pratica secondo le accuse della procura di Catanzaro, insomma i medici dell'ospedale, alcuni medici primari dell'ospedale, anche primari dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro effettuavano delle visite a pagamento in contanti all'interno appunto dell'ospedale. Queste e tante altre notizie appunto troveremo sui quotidiani oggi in edicola, come sempre partendo dalla prima pagina di Gazzetta del Sud, edizione Catanzaro, Crotone, La Mezza Terme e Vibo, leggiamo Pugliese nella morsa dell'illegalità, infatti quello che poc'anzi vi abbiamo anticipato. Quindi si ipotizzano anche visite senza pagamento della quota aspettante all'azienda. Quindi regali in cambio di corsie preferenziali negli appalti, leggiamo, primari indagati coinvolti appunto nel blitz della procura della Repubblica di Catanzaro, diretta, guidata da Nicola Gratteri, sono state delle perquisizioni, avevamo parlato anche nell'edizione precedente dei giornali in tv. Poi leggiamo ancora su Gazzetta del Sud, il restyling dello stadio Ceravolo di Catanzaro arriva la prima offerta, appunto sarà una corsa contro il tempo, una prima offerta in relazione appunto al rifacimento del manto erboso. Sempre da Gazzetta del Sud leggiamo Catanzaro Servizi, prospettive presto al vaglio dell'aula, quindi il dibattito ci sarà in Consiglio Comunale sulla Catanzaro Servizi. Poi l'ira degli studenti ai lavoratori per il caro affitti, la protesta in tutta Italia. Poi altre ombre sul caso Kindamo, la ricostruzione dei PM della DDA, i Mancuso interessati ai suoi terreni, l'imprenditice appunto scomparsa nel luglio, nel maggio del 2016. Sempre su Gazzetta andiamo a vedere anche di spalla altre notizie che comunque riguardano altri temi, anche nazionali sulla sanità, precari sulla sanità, salta stabilizzazione sull'autonomia e scontro fra la Lega e Fratelli d'Italia. Poi a centropagina l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna travolta dalla pioggia, nove morti, una donna è stata trascinata per 20 chilometri, quindi c'è tanta tanta veramente tanta drammaticità per quanto sta accadendo in Emilia Romagna con l'alluvione, tante famiglie, moltissime famiglie in difficoltà, addirittura ci sono anche dei morti come abbiamo letto. E poi ancora di di piede su Gazzetta, in fuga dai paparazzi come Diana, Harry e Meghan, rischiano grosso, poi Cina, negoziati flop, sul grano ucraino, prolungato l'accordo. E poi Napoli pestano, un dodicenne è stato pestato e firmano l'aggressione, il video addirittura finisce sui social. omicidio Pirillo, torniamo in Calabria, omicidio Pirillo a Ciro Marina, il pentito Aloe fa dietro fronto e accusa il cognato. Poi la mezza terme, il PD mette in allerta i consiglieri comunali, sarete responsabili del nuovo piano strutturale comunale. Questo era su Gazzetta del Sud, la prima di Gazzetta del Sud, edizione Catanzaro, la mezza terme, Crotone, Vibo, con cui abbiamo iniziato questo nuovo appuntamento con i giornali TV. Proseguendo su Gazzetta del Sud online, Catanzaro Servizi, l'ora dei conti, fumi maleodoranti a Montepaone, si intensificano le segnalazioni. Come leggevamo nella prima, la mezza terme, il PD di la mezza mette in guardia i consiglieri, sarete responsabili del nuovo piano strutturale comunale. Poi Vibo Valencia l'accusa ai fratelli Crisafio, condanna ad otto mesi per Pietro Di Costa. Giron Marina, il pentito aloe, Peppe Spagnolo ha avuto un ruolo nell'omicidio di Vincenzo Perido, dice il pentito aloe. Poi novità nell'inchiesta sull'omicidio Kindamo, che secondo la DDA di Catanzaro sarebbe maturato per interessi dei clan sui terreni dell'imprenditrice Kindamo. Corruzione, truffa al pugliese Ciaccio di Catanzaro, coinvolti medici e amministrativi, come dicevamo in apertura. Poi questo era appunto su Gazzetta del Sud online, leggiamo Vibo Valencia, nuovo ospedale, sarà la volta buona, si chiede Gazzetta del Sud. Opera che è conclusa in tre anni, almeno queste sono le previsioni, vedremo se è così, perché ormai sono tanti anni che si parla di un nuovo ospedale a Vibo Valencia. Poi il giallo della ginecologa specializzata a Catanzaro a giudizio l'ex primario Trento e il vice primario. Questo era appunto sulle pagine di Gazzetta del Sud che come sempre la prendiamo in considerazione per primo per iniziare appunto il nostro appuntamento con i giornali in tv. Andiamo alla prima del quotidiano del Sud, come vediamo qui c'è la foto del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Bombardieri che resterà a guidare la procura di Reggio. Il CSM appunto ha deciso così, quindi dal plenum del CSM arriva la conferma dei bombardieri al vertice della procura. Sempre sul quotidiano leggiamo ondata di maltempo in Emilia Romagna nove le vittime come appunto abbiamo letto poc'anzi, oltre 10.000 gli evacuati, quindi veramente un dramma quello che sta succedendo alla regione, nell'Emilia Romagna, in molti territori, in molte aree dell'Emilia Romagna. Quindi il governo si riunirà soltanto fra cinque giorni per dichiarare lo stato di emergenza. E poi anche qui l'inchiesta della sanità a Catanzaro all'ospedale Pugliese Ciaccio. Appalti e visite in Tromenia, il blitz al Pugliese Ciaccio. I sospetti della procura di Catanzaro su presunte mazzette per pilotare le gare, le visite private in ospedale pagate in contante e intascate completamente dai medici. Queste sono le accuse. Poi Maestrale Cartago, la cappa sui fondi agricoli e il caso del furto in comune. E ancora Garante Garante dei detenuti, leggiamo sul quotidiano le sentinelle sul territorio a tutela dei diritti e di chi è in carcere. Anche qui in Calabria ci sono situazioni che riguardano il maltempo. Ci mancherebbe altro, non come l'Emilia Romagna, però qui c'è un aspetto. Maltempo e cicloni, il dirigente della protezione civile regionale dice baciati dal fato, ora aggiornare i piani di protezione civile. Quindi non c'è la stessa emergenza che c'è in Emilia Romagna, dice il dirigente regionale della protezione civile Calabria, però bisogna aggiornare i piani perché questa volta siamo stati baciati dal fato, dalla fortuna. Una modifica alla legge per salvare i bilanci assenti, poi Ponte sullo stretto, i Cinque stelli, progetto scellerato per la Calabria, poi Catanzaro, il polo fieristico torna alla sua vocazione. Reggio Calabria, Università Open Day, tutto l'EPIL della Mediterranea, Vibo scuola di polizia, allarme dai sindacati, forte carenza di personale, sempre dal quotidiano il caso Crotone, Movida in centro, Casillo, tutelare, residenti ed esercenti. A proposito di Crotone c'è anche oggi il caso del giovane Andrea Ferreiro, scambiato per un'altra persona, drammatico episodio della scorsa estate, giovane che si trova mai in stato vegetale, in coma irreversibile da multimedal, praticamente dalla scorsa estate. Il corteggiatore misterioso prosciolto, le motivazioni del gruppo sul caso di Davide Ferreiro. Quindi Vibo Valencia, ospedale, via ai lavori per le opere complementari, ambiente, mare pulito, rinnova l'accordo con la regione. Poi l'evento, il premio Tajani al PM di Palermo Paolo Guido, che poi è calabrese, il PM che ha coordinato le indagini che hanno portato poi alla cattura del super boss Matteo Messina Denaro. Premio Sila, Fabio Stassi, il mio romanzo sulle parole perdute. Questo era sempre sulla prima del quotidiano del sud. Andiamo anche a vedere le pagine interne del quotidiano. Come dicevamo, il bilancio sale a nove vittime, il bilancio delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, Bonaccini che è il presidente dell'Emilia Romagna e un altro terremoto. Sono 21, pensate un po', i fiumi e sono andati in più punti. Migliaia di persone evacuate. Quindi il 23, intanto è solo il 23 maggio, ci sarà come leggiamo dal quotidiano del sud, soltanto il 23 maggio ci sarà il consiglio dei ministri per dichiarare allo stato di emergenza. Mattarella, il presidente della Repubblica, Mattarella, chiama il presidente della regione Bonaccini. La crisi climatica accelera in Italia più che altrove. Come preparare le città? Gli esperti dicono basta la liturgia dello stato di calamità, serve prevenzione, questa è una parola prevenzione di cui si parla ormai da molto tempo, se ne parla, si dichiarano gli stati di calamità, purtroppo si contano i danni, le vittime, ma di prevenzione appunto non se ne parla e soprattutto non si fa la prevenzione per evitare questi disastri. Come dicevamo il consiglio superiore della magistratura ha deciso Giovanni Bombardieri, leggiamo appunto sul quotidiano del sud, ecco qui la foto, Giovanni Bombardieri, confermato capo della procura reggina, procura di Reggio Calabria, l'avevamo letto, è la terza nomina scrive il quotidiano del sud e poi il blitz della finanza alla pugliese Ciaccio di Catanzaro, sotto osservazione leggiamo l'attività in Tromenia e la gestione di alcuni appalti. Questo era sul quotidiano del sud, c'è anche una dichiarazione del presidente della Regione Calabria, nonché commissario per la sanità calabrese Roberto Chiuto, un quadro allarmante dice Roberto Occhiuto, ora basta. La Calabria è stata baciata dal fatto ciclone mediterraneo, bisogna aggiornare i piani, dice Folino Gallo che è il responsabile regionale della protezione civile, l'allerta resta alta in tutta Italia per appunto le sondazioni dei torrenti. Poi per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina, secondo i 5 Stelle è un progetto scellerato per la Calabria, intervento dei pentastellati dopo l'approvazione del decreto sul ponte sullo stretto di Messina alla Camera. I parlamentari del Movimento 5 Stelle qui infrastrutture a zero. Schifani, ora posa della prima pietra, Schifani è il presidente della Regione Sicilia. Poi risorse ad archivi e biblioteche calabresi, è stata pubblicata la graduatoria di merito, cioè il finanziamento della Regione per biblioteche e archivi. Un finanziamento totale per tutte le biblioteche. Il sistema bibliotecario calabrese, i fondi complessivi, il finanziamento complessivo è di 4,6 milioni di euro. Questo era sul quotidiano del Sud, operazione maestrale Cartago, lo strano caso del furto al comune, al comune di Vibbo, leggiamo dal quotidiano del Sud, il ruolo dell'ex vice sindaco di Mileto nella sparizione delle carte d'identità. Per gli inquirenti, l'ex vice sindaco di Mileto in provincia di Vibbo era a disposizione dei clan. Questo era sul quotidiano del Sud, andiamo anche alle pagine interne, polo fieristico di Catanzaro, la struttura torna alla sua vocazione, sopra il logo di Fiorita che è il sindaco di Catanzaro e Pietro Paolo che è assessore regionale. Questo polo fieristico necessita di alcuni interventi, sarà sede di eventi e dei prossimi concorsi della Regione. Soddisfazione di corsi, scrive appunto il quotidiano del Sud. E ancora dalle pagine dei vari territori del quotidiano del Sud, andiamo alla Mezzia dove appunto si parla anche qui ancora del piano strutturale comunale. Come sapete c'è stata una conferenza stampa delle forze progressiste che ritengono questo piano strutturale comunale non legittimo in alcune norme, secondo anche le valutazioni della Regione Calabria. E il segretario cittadino del PD insiste, ritenendo che le modifiche a questo piano erano limitate. Perché il piano era stato, secondo appunto Gennarino Massi del PD, segretario cittadino del PD, spiega che quando è stato adottato nel 2015 dalla Giunta Speranza, poi il piano non doveva essere modificato, ritoccato, se non limitatamente ad alcuni punti. Invece la Giunta Mascaro lo ha modificato, lo ha secondo Masi stravolto e la Regione ha bacchettato da questo punto di vista l'amministrazione comunale. E secondo Masi le manifestazioni di interesse a questo punto, le osservazioni approvate dal Consiglio Comunale a dicembre scorso, sono non procedibili. Per cui avverte i consiglieri comunali che, Masi ricorda, non sono stati informati da questo verbale del 29 marzo, da questa osservazione del 29 marzo della Regione Calabria e avverte i consiglieri comunali a stare attenti, secondo Masi, a approvare definitivamente questo piano, se mai ci sarà. Poi c'è un intervento di Mimmo Gianturco, consigliere comunale, secondo il quale bisogna ripensare il sistema di viabilità nella città di Lamezia. Serve un masterplan perché questa viabilità è datata e bisogna ripensarlo anche per avvicinare i quartieri alla città di Lamezia Terme. Prima parlavamo che la Regione ha finanziato le biblioteche e gli archivi e tra queste biblioteche finanziate c'è anche quella di Lamezia Terme, quindi sono stati finanziati i progetti, leggiamo dal Quotidiano del Sud, per le biblioteche. Anche a Lamezia è stata finanziata la biblioteca comunale per 60.000 euro ed è stato finanziato anche il sistema bibliotecario Lametino per altri 60.000 euro. Poi leggiamo dal Quotidiano del Sud, il Comune ha rinunciato a costituirsi parte civile nel processo contro il consigliere comunale Ruggero Pegna che è accusato di falsità ideologica, cioè di aver firmato un'autocertificazione nel momento in cui è stato letto consigliere comunale dichiarando che non aveva contenziosi debiti, insomma cartelle con il Comune, invece secondo la Procura c'erano debiti, quindi sotto processo per falsità. Il PM ha individuato come parte offesa il Comune di Lamezia, ma il Comune di Lamezia all'udienza, all'inizio del processo non si è costituito parte civile, nonostante gli uffici comunali avevano dato il via libera per la delibera di costituzione parte civile, ma il sindaco ha ritenuto di non costituirsi parte civile e ha scritto una lettera agli assessori spiegando le ragioni di questa mancata costituzione di parte civile. A San Pietra Maeda fra un anno si voterà, ma il vice sindaco si è dimesso un anno prima delle elezioni, quindi Andrea Davoli leggiamo dal Quotidiano del Sud, resta consigliere ma di minoranza. Poi tra le pagine un libro di Pietragalla, un viaggio emotivo fra storie di donne e di bambini in guerra, il libro di Daniela Pietragalla, una protesi dentaria che ha ridato il sorriso a chi non aveva i mezzi per permettersela. Ci sarà la consegna di questa protesi dentaria gratuita grazie all'iniziativa dell'ambulatorio solidale di La Mezzia Terme. Questo era sulle pagine del Quotidiano del Sud, poi anche Crotone, tutelare residenti e desercenti. Il presidente di Confcommercio Crotone interviene sulla movida del centro storico di Crotone. e poi sempre sul Quotidiano del Sud, la ZES, zona economica speciale, i sindaci di Reggio Calabria, della città metropolitana di Reggio Calabria, scrivono alla Regione inserire l'area industriale di campo, Vile San Giovanni e Reggio nel piano strategico. Ancora dalle pagine del Quotidiano, leggiamo Vibo Valencia, forte carenze di personale alla scuola di polizia, poi processo rinascita Scott, continua ancora la requisitore del PM, procacciava informazioni riservate, il PM della DDA parla della figura dell'avvocato Giancarlo Pittelli che è imputato in questo progetto. Per la PM Frustaci, il penalista Pittelli è andato ben oltre il proprio mandato difensivo, riusciva ad arrivare ai magistrati di questo distretto, detto il PM della DDA. Sempre processo rinascita Scott, Domenico Lobbianco dice, ho sempre vissuto onestamente uno degli imputati. Poi Filadelfia, provincia di Vibo, la festa della mamma celebrata in piazza San Teodoro, manifestazione organizzata dalla parrocchia. Poi sempre Filadelfia, in provincia di Vibo, torna l'appuntamento con il premio Barone alla scoperta di simboli e delle maschere apotropaiche dei palazzi. Poi a Pizzo, immobili abbandonati al centro storico, a dare l'allarme sono i pochi residenti. A Tropea, la prefettura di Vibo richiama il comune di Tropea. L'amministrazione comunale è in ritardo con l'approvazione dei rendiconti di gestione del 2022. La Tropea d'Argento a Papa Francesco, il Pontefice, ha avuto anche in omaggio la maglia ufficiale della Vibonese Calcio. Poi Tropea, domenica ci sarà una gara podistica, sempre Tropea, una raccolta firme su due ruoti. Ah, sempre questa notizia che arriva da Tropea, quindi siamo sempre nelle pagine del Cotila del Sud, praticamente nell'edizione di Vibo. Poi Cultura, il premio Tajani al PM Guido, che, come abbiamo detto, ha coordinato le indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro, PM calabrese. Al Salone del Libro per Valorizzare la Calabria, intervento della vicepresidente Princi della Regione. Fabio Stasi, presente a Cosenza, Mastro Geppetto, nell'ambito del premio Sila. Il mio è un romanzo sulle parole perdute. Questo era sempre sul quotidiano del Sud, con cui torneremo appunto sulle pagine del quotidiano del Sud per arrivare quando appunto arriveremo alla conclusione del nostro appuntamento con lo sport. E ora andiamo rapidamente a dare uno sguardo, appunto, come facciamo sempre, insomma, andiamo a dare uno sguardo velocemente ai titoli principali delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera, ma morti e sfollati come un terremoto. Poi la Repubblica sott'acqua, è ancora la stampa, Romagna Nostra, anche qui libero, sott'acqua il modello PD, scrive libero, alluvione in Emilia Romagna, il giornale, l'alluvione e la solidarietà, Romagna Nostra, il fatto quotidiano, il partito del cemento uccide, sempre riferimento appunto all'alluvione dell'Emilia Romagna, poi la verità, tamponi e mascherine, un'altra presa in giro, il tempo dal governo subito 20 milioni per l'Emilia Romagna, poi ancora sul messaggero, affogati nel fango, domani l'Italia, di nuovo sott'acqua, frassicità, l'uvioni e la prevenzione che non c'è. Poi il mattino, sepolti dall'acqua, il manifesto, tempo scaduto, il riformista, autonomo sua, con la foto di Calderoli a proposito dell'autonomia differenziata, disegno di legge del ministro Calderoli. Il sole 24 ore, brevetti, Milano perde il tribunale, scrive il sole 24 ore. Poi il gazzettino, maltempo, 9 morti e 28 mila sfollati. Il dubbio al Qatar, il lavoro, all'Iran i diritti, l'ONU gioca con le nomine, Emilia Romagna travolta da piogge e stralipamenti, il secolo XIX, travolti da un mare di fango, l'identità a morire di pioggia, leggo, travolti dall'acqua, poi metro, hanno rischiato la fine di Lady Di, appunto, dicevamo appunto, leggiamo appunto questa notizia anche per appunto i reali d'Inghilterra, il resto del Carlino, perché il resto del Carlino si fa questa domanda a proposito dell'alluvione in Emilia Romagna. Poi la notizia, 9 morti e 13 mila sfollati, Emilia Romagna e Marche pagano il caro bugie di chi neva all'emergenza clima. Poi l'opinione, Emilia Romagna, incubo, maltempo, il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, falsa autonomia, crescita vera, la discussione, alluvione, 9 morti e 13 mila sfollati, martedì le decisioni del governo. La ragione, sapevamo, l'unità, il Papa ignora i niet di Kiev e continua a trattare, ma Roma preferisce la guerra. Questo era appunto sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo anche allo sport, quotidiani sportivi nazionali, allo sport, City da paura, vai Inter, infatti il City ha battuto 4-0 Real Madrid e giocherà in finale 10 giugno a Istanbul, la finale di Champions League con l'Inter. Il Corriere dello Sport sono mostri, l'Inter sfiderà in Manchester City, stellare in finale di Champions League. Tutto Sport, anche Tutto Sport insomma, parla di questo Inter City per Istanbul e poi questo era appunto sullo quotidiano di Torino, Tutto Sport. Per concludere con lo sport e con il nostro appuntamento con il giornale TV, Serie B, Inzaghi bussa alla regina, il tecnico avrebbe chiesto un incontro a Saladini e Cardona per le indicazioni sul futuro della regina. La squadra intanto cerca la concentrazione giusta per l'ultimo assalto, tentare appunto di vincere e disputare i play-off. Catanzaro, Vivarini ha detto sì, Manto Erboso, lavori più vicini, Locri con una marcia in più, Amaranto avanti a livello fisico e mentale, grazie allo staff. Intanto si avvicina alla finale di play-off, Serie D, Gironei, Locri, Trapani, La Mezzia, Gianni, Andrea Gianni, l'ormai ex direttore generale della Mezzia, saluta. Alla Mezzia mi sono sentito a casa una decisione sofferta, risolvere il contratto consensualmente con la Mezzia Terme, una decisione che ho maturato già nelle scorse settimane, è stata sofferta, dice Andrea Gianni, ex ormai direttore generale della Mezzia, che nei giorni scorsi ha annunciato Fabrizio Maglia, nuovo direttore sportivo. Serie B, che bel gruppo è il Cosenza, Esbar, ex attaccante rosso-blu, dice Viali decisivo, la salvezza, intanto bisogna vincere col Cagliari, dice Essabre, già venduti 5.000 biglietti, Crotone, Serie C, Cargbo, Scalpita, titolare, Sederrico sarà K.O., poi la gioiese promossa in Serie D, dà il ben servito al tecnico Graziano Nocera, decisione a sorpresa che ha spiazzato il tecnico. E poi, sempre parlando di Serie D, sul quotidiano leggiamo questa statistica, fra gli stacanovisti della Serie D, cioè dei calciatori di Serie D, ci sono Carella dell'Ocri e Terranova della Mezzia, anche Aslano e Mataloni della Mezzia, hanno avranno 34 presenze, cioè hanno giocato tutte le partite di campionato, sia Terranova della Mezzia che il portiere Mataloni della Mezzia, Terranova attaccante con 11 gol. Sempre in Serie D, si separano le strade fra Vanzetto, tecnico e il città di Sant'Agata, una bella esperienza che porterò nel mio cuore, dice Leonardo Vanzetto. Poi il Rende e la Palmese, in campo al Dipolito di La Mezzia, domenica alle 15.30. Chi vince tra Rende e Palmese, va in eccellenza. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione dei giornali TV, da Pasqualino Lettura come sempre è tutto, grazie per averci seguito fin qui e naturalmente con i giornali TV vi diamo appuntamento alla prossima edizione.